In Belgio qualcosa si fa contro il caro energia. In risposta all'aumento dei prezzi, ad aprile il governo belga ha deciso di concedere un assegno una tantum di 200 euro, poi aumentato a 225. La misura riguarda il 21% delle famiglie belghe. Lo stanziamento previsto ammonta a 225 milioni di euro, importo che corrisponde alle entrate aggiuntive dello Stato belga in seguito all'aumento del prezzo dei carburanti. Dal Cremlino, parlando in video con i suoi ministri, Vladimir Putin ribadisce la sua posizione di forza. Tutto questo, ancora una volta, dimostra che le sanzioni e le restrizioni contro la Russia causano molti più danni proprio ai paesi che le impongono. Un ulteriore ricorso alle sanzioni può portare a conseguenze ancora più gravi, addirittura catastrofiche, nel mercato globale dell'energia. In collegamento video con il Parlamento sloveno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e mi batte. La Russia ha portato i prezzi del gas in Europa ai massimi storici, limitando deliberatamente l'offerta. La cosa ha portato? A un'inflazione catastrofica. Se non ci fossero questi prezzi per le risorse energetiche, non ci sarebbero conseguenze così dolorose per la maggior parte delle famiglie in Europa. Da Bali, in Indonesia, dove si tiene la riunione del G20, la ministra degli esteri indonesiana Retno Marsudi commenta Tutti i partecipanti si sono detti preoccupati per l'impennata dei prezzi di cibo ed energia e hanno ribadito che l'attuale crisi, comprese le questioni relative alla loro accessibilità, convenienza e sostenibilità, continuerà ad ostacolare la ripresa globale. La Russia continua tuttavia a tenere la situazione in pugno, grazie ad impianti di gas naturale liquefatto come questo al porto di Sabieta, nella penisola di Yamal, fondamentale per la cosiddetta rotta artica del gas russo.